Amarena era l'orsa ghiotta di Amarene, come mostra questo video di Vincenzo Iacovoni. Era mamma di due cucciolotti, poi ha incontrato un uomo che avrebbe dovuto conoscerla, ma racconta di aver avuto paura e le ha piantato un proiettile nei polmoni provocandole un'emorrogia letale la sera dello scorso 31 agosto. Una storia tragica ancora da chiarire, ma intanto le associazioni ambientaliste in memoria di Amarena e in difesa della fauna italiana domani, domenica 10 settembre organizzano una manifestazione, un futuro per l'orsa a Pescina a partire dalle ore 9. Tante persone che vogliono ricordare l'orsa Amarena, ma soprattutto vogliono lanciare un nuovo messaggio di conservazione della fauna. Amarena era un simbolo per il nostro Abruzzo, in generale per la tutela della natura, ma sta passando un messaggio anche dialettico, anche di racconto sbagliato sulla fauna e quindi vogliamo che ritorni una consapevolezza e una possibile convivenza, soprattutto tra i grandi carnivori e il nostro territorio. Avremo alcune richieste da portare sui tavoli istituzionali, che sono per esempio l'inasprimento delle pene per i crimini di natura, il continuare con le azioni di prevenzione e di buone pratiche di convivenza e cercare appunto una sinergia tra associazioni e istituzioni perché questi animali così belli possano continuare ad essere un simbolo della nostra terra.